Preghiera del mattino Fa, oh Signore, che viviamo il tempo che ci dai come un dono della Tua bontà, per divenire il sale della terra e la luce del mondo. Il Tuo Spirito orienti i nostri pensieri e le nostre parole, perché rimaniamo sempre nel Tuo amore e nella Tua lode. Amen.